Sul territorio vibonese sono stati effettuati numerosi controlli interforze nelle aree più sensibili al centro cittadino, dove nei fine settimana si riuniscono numerosi giovani provenienti da tutta la provincia. In particolare sono state vigilate piazze e vie circostanti, insieme a numerosi posti di controllo in città e nelle strade di accesso al capoluogo, con l'obiettivo di moderare l'abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, atteggiamenti spesso reiterati di vandalismo, violenza, bullismo e ogni forma diffusa di illegalità. Nell'ambito dei controlli svolti nel mese di maggio, principalmente nelle serate del venerdì e sabato, sono state identificate 1535 persone e controllati 585 veicoli. L'attività posta in essere ha portato anche a contestazioni per violazione al codice della strada, con ritiro di documenti di circolazione, nonché ad alcune contestazioni amministrative per consumo di sostanze stupefacenti e dal sequestro di un tirapugno e coltelli.